Due avvisi di garanzia li ha firmato il sostituto procuratore Assunta Tillo che dirige le indagini dei carabinieri sulla tragica fine del cinquantenne operario di Apollosa morto lunedì mattina ad Arpaia in un incidente sul lavoro. Un atto dovuto per consentire a due rappresentanti dell'impresa di cui la vittima era dipendente di nominare un consulente che prenda parte all'autopsia affidata al dottore Vincenzo Migliorelli. L'esame era in programma questo pomeriggio ma una scelta procedurale ne ha provocato lo slittamento a mercoledì prossimo. La tragedia si era consumata in un cantiere aperto per l'ampliamento della rete fognaria. L'uomo era stato investito da una frana che si era aperta all'improvviso. Era stato travolto da una massa di detriti che l'aveva intrappolato fino all'altezza della testa, inutili purtroppo e tentativi di salvarlo. Al di là della causa della morte, individuata nella probabile pressione subita nell'impatto con il terreno venuto giù, l'inchiesta punta soprattutto a ricostruire in modo completo la dinamica del drammatico incidente e a stabilire se siano state o meno rispettate le norme sulla sicurezza. Restano il dolore e lo sconcerto per il destino toccato dal marcapitato, sposato e padre di due figli. Il suo nome è ora, purtroppo, nell'elenco delle cosiddette morti bianche.